buona giornata amici buona giornata da fano tv ben trovati alla rassegna stampa di questa mattina oggi è sabato 6 maggio 2023 vediamo subito chi si festeggia oggi il santo del giorno è san pietro nolasco fondatore dei mercedari visse tra il dodicesimo e il tredicesimo secolo era di nobile famiglia e fin a fanciullo si destinse per la sua carità infatti fondò l'ordine di santa maria della mercede ovvero della misericordia con particolare propensione per la carità lo fece nella cattedrale di barcellona ovviamente in spagna un culto che presto però si diffuse in tutta europa in francia in italia ma anche in america dopo la scoperta appunto di cristoforo colombo in modo particolare nell'america del sud in perù dove il culto dove la venerazione della madonna della mercede è molto popolare obiettivo primario era quello allora della liberazione degli schiavi insomma già la chiesa cattolica aveva da una parte aveva così tollerato questa questa questo provvedimento che era veramente in contrasto con tutte le opere evangeliche dall'altra invece lo aveva combattuto questo per quanto riguarda il santo del giorno e ora vediamo anche l'almanacco del tempo se così lo possiamo definire le previsioni danno condizioni meteo stabili con velature sparse e in tutta la giornata per la regione temperature in aumento con punte di oltre 25 gradi le minime si sono attestate sui 14 i 20 sulle coste spirano da est e sud est e nell'interno invece da nord e abbiamo dunque ancora una bella giornata speriamo che duri anche per tutto il weekend oggi apriamo per primo il corriere adriatico sulla pagina di fano ma l'apertura è uguale in tutti i giornali purtroppo non è un'apertura bella è un'apertura veramente drammatica fano sotto shock e morto della dora tommaso della dora il segretario del partito democratico di fano è stato stroncato ieri nel primo pomeriggio nella sua abitazione da un infarto il padre con conviveva con la famiglia il padre e la madre nel quartiere di sant'orso lo ha ritrovato riverso in bagno senza aver mai ricevuto alcun segnale premonitore ieri appunto è deceduto tommaso della dora hanno tentato hanno tentato per molto tempo a rianimarlo sono gli operatori della croce rossa che sono subito intervenuti dopo l'appello dopo il richiamo della famiglia ma purtroppo nonostante i tanti tanti tentativi non c'è stato nulla da fare la notizia ha gettato veramente così tanta tanta costernazione tanto dolore soprattutto l'ha provocato nella famiglia ma poi anche in tanti amici e in tanti esponenti politici che stimavano tommaso della dora nessuno voleva credere a questa tragedia così inaspettata il segretario stava bene era attivo faceva progetti organizzava iniziative sembrava impossibile che da un momento all'altro non ci fosse più è veramente le dichiarazioni che oggi ci sono sui giornali dai suoi compagni di partito ma anche dai suoi avversari politici testimoniano come questo esponente politico questo ragazzo era stimato da tutti siamo rimasti senza parole ha dichiarato renato claudio minardi e che lo aveva appoggiato nel corso delle elezioni della del comitato di del partito democratico nel momento in cui si doveva eleggere il nuovo segretario lui aveva ottenuto il 63,65 per cento dei voti prevale e prevalendo sulla corrente di futuro democratico che aveva candidato riccardo tonti bandini il quale aveva ottenuto il 36,35 per cento da allora la sua azione politica è stata esente quella di Tommaso della Dora da trionfalismi era un personaggio piuttosto schivo non appariva molto non faceva tante dichiarazioni ma lavorava intensamente per cercare di consolidare questo partito che sappiamo è travagliato da dissidi interni quindi veramente una grande costernazione per quanto è avvenuto ci sono espressioni di cordoglio lo vediamo qua sui giornali che vengono espresse dal sindaco massimo seri poi abbiamo il movimento 5 stelle apprendiamo con sgomento la tragica notizia della prematura scomparsa di Tommaso della Dora interviene anche Loretta Manocchi di Fratelli d'Italia che oggi sospenderà le azioni che erano state programmate di promozioni del partito in centro storico in segno di lutto rendiamo anche noi omaggio cordoglio, spremiamo il nostro cordoglio alla famiglia per la scomparsa di questo giovane esponente politico Fano sotto sciocche vediamo come anche il resto del Carlino riporta la notizia ma l'ora improvviso mentre è in casa il segretario del PD muore a 42 anni Tommaso della Dora si è accasciato nel primo pomeriggio di ieri inutili tentativi di rianimarlo abitava a Sant'Orso con i genitori e lavorava come educatore nel campo della disabilità faceva parte come educatore della cooperativa Cosmark idem sono sotto sciocche lui amava la fotografia aveva immortalato i paesi del terremoto che gli erano rimasti sempre nel cuore veramente il suo sito facebook è pieno di immagini di fotografie che aveva fatto come risultato della passione per quanto riguarda l'immagine da educatore si occupava dell'assistenza educativa dei disabili sia a casa che a scuola preoccupandosi soprattutto di così concorrere alla autonomia dei ragazzi e alla comunicazione degli studenti disabili quindi era anche un operatore sociale di grande rilievo passiamo alle altre notizie anche se di questa scomparsa si continuerà a parlare nei prossimi giorni quando apprenderemo quando ci saranno i funerali centro sociale a Ponte Sasso un intervento di riqualificazione un punto di riferimento consolidato per l'intera frazione il centro sociale intitolato a Giancarlo Santinelli che è stato un assessore non scordato del comune di Fano ebbene è un punto di riferimento per tutta la frazione non è soltanto un centro sportivo è anche un centro sociale che attrae tante tante persone ebbene questo centro viene ora così viene ora riqualificato e esso è composto da un campo da calcio a 11 da un campo da calcio a 8 con annessi spogliatoi poi c'è il bocciotromo, due piste e un'area moltiuso proprio il bocciotromo è stato recentemente oggetto di un intervento di riqualificazione che in un futuro, non troppo lontano interesserà anche l'adiacente sala polivalente più che una ristrutturazione si può considerare quanto è avvenuto si può parlare di una ricostruzione dell'intero complesso quindi una struttura che viene ancor più riqualificata un'altra apertura sulla seconda pagina del Corriere Adriatico è dedicata a tre asili nido li hanno evidenziati ieri pomeriggio l'assessore Levori Pubblici Barbara Brunori e l'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin appalti per tre nuovi asili nido a Cucurano il primo cantiere poi continueranno quelli che verranno realizzati a bellocchi e a ballato garantiranno tutti insieme l'accoglienza per 120 bambini e Fano va in controtendenza perché mentre in tutto il resto d'Italia la diminuzione delle nascite rende non più necessari proprio un proliferare di asili nido invece a Fano le domande aumentano quindi occorrono ancora più strutture e l'amministrazione comunale si dà da fare e allora che cosa accade per questi progetti la pubblicazione avviene lunedì poi la consegna dei lavori entro il 30 giugno per Cucurano e il 30 novembre per le altre due strutture ovvero quella di Bellocchi e quella di Vallato e poi il collaudo entro il 2025 anzi ne entro il 2026 in modo che queste strutture oggi siamo ancora nel 2023 ci vogliono tre anni perché vengano messe a regime e possono essere rese accessibili nell'anno scolastico 2026-2027 quindi ci vuole ancora un po' di tempo una bella iniziativa che si svolge domani al Pincio l'asta solidale ebbene torna solidarte un'iniziativa che viene organizzata dal Rotary Club di Fano è un'asta di quadri un'asta di quadri il cui ricavato viene devoluto poi alla Caritas anno scorso la prima edizione quest'anno si ripete perché la prima edizione ha avuto un grande successo la stanno così propagandando il presidente di quest'anno Alessandro Principi e l'organizzatore Massimo Bonifazi l'organizzazione della manifestazione coinvolge 32 artisti e permette di scegliere tra 40 opere molte delle quali sono state esposte al Pincio durante l'estemporanea di pittura Fortunarte ebbene la base d'asta per l'acquisto delle opere è fissata a 50 euro con possibili rilanci a 10 euro quindi l'appuntamento è per domani alle ore 17 nella Chiesa del Suffragio quindi accorrete tutti in massa perché sono delle belle opere d'arte che verranno messe all'asta vediamo anche questo articolo di spalla sul Corriere Adriatico frutto di una conferenza stampa che c'è stata ieri all'Istituto Nolfi a Polloni dove nell'aula magna il preside Samuele Giombi con i suoi insegnanti ha evidenziato un'iniziativa di scuola-lavoro che ha impegnato circa 40 studentesse in modo particolare della sua scuola si tratta di esperienze formative compiute nei centri gioco dei bambini come per esempio Gas Gas al Poderino oppure l'oratorio di San Cristoforo quello di Cucurano poi ancora il cubo di San Lazzaro sono iniziative dove si svolgono dopo scuola dove si intrattengono i bambini con i giochi e dove si coinvolgono anche le strutture del terzo settore tant'è che hanno collaborato a questa iniziativa Chiama l'Africa e Mille Voci questo è stato compiuto tutto in collaborazione con l'ambito sociale territoriale di Fano presieduto dal Assessore al Welfare di Comunità Dimitri Tinti ieri era presente anche la coordinatrice d'ambito Roberta Galdenzi quindi una bella iniziativa che ha arricchito tanto coloro che l'hanno ricevuta i bambini tanto coloro che l'hanno espressa ovvero gli studenti passiamo subito a Fossombrone sulle Corriere Adriatico dove ci si attrezza per il Giro d'Italia e vediamo che il rosa e il colore del giro appare un po' dappertutto Fossombrone Ponti e Palazzi Rosa e Lucignolo e Lucincircolo non Lucignolo Lucincircolo debutta con il Giro saranno proiettate sulle facciate dei musei le opere conservate al loro interno soprattutto nella quadreria Cesarini che è veramente una bella pinacoteca da visitare a Fossombrone poco sotto lo stesso colore il ponte della Concordia abbiamo insomma il rosa che predomina il palazzo Cattabeni sede della fondazione Monte di Pietà ospita intanto fino al 25 giugno la mostra delle tavolette di Anselmo Mucci uno dei grandi pittori nativo di Fossombrone ma noto anche in tutto il territorio perché è stato un cronista eccezionale degli anni 30 a seguito del Giro d'Italia e poi ancora altre iniziative nell'atrio del Cinema Metauro per esempio vengono prietati in continuazione filmati con riprese droni di Fossombrone e poi ancora il paesaggio circostante spezzoni del Giro la Proloco Forum Semproni ha indetto il concorso dei terrazzi in fiore più belli più belli ed eleganti e insomma c'è tanto tanto fermento e tante novità per quanto riguardo Fossombrone incastonate in questa bella Kermesse del Giro d'Italia ma a parte il Giro d'Italia noi abbiamo invece un'iniziativa sportiva ancora più vicina che magnifica il territorio e che cos'è? Ebbè è la Colle Marathon lo vediamo qua in questo articolo di Spalla oggi iscrizioni al Pincio di Fano della Colle Marathon e domani la grande Kermesse il 7 maggio è un'iniziativa che rischiava di scomparire ma in realtà è stata recuperata ed ora sta ricevendo tante tante adesioni con le Marathon domani lo start per 1200 atleti nelle tre gare runner da tutto il mondo si parte da Barchi alle ore 9 tutto è pronto dunque per questa grande gara ci sono atleti provenienti pensate da Albania Belgio Svizzera Germania Lussemburgo Olanda Polonia Iran Perù Brasile Spagna Romania Marocco Correa e Stati Uniti 600 partecipanti alla competizione regina di 42 chilometri 195 metri tra Barchi e Fano 500 nella mezza maratona Mondolfo Fano e un centinaio alla 10 chilometri Barchi Sant'Ippolito intitolata all'indimenticato campione dello sport Giuseppe Ottaviani il centenario che ancora correva quindi un grande spettacolo domani dai monti al mare per questa bella iniziativa e passiamo alla Valcesano a Valcesano a Cantiano ci sono ancora problemi pensate dopo quanto ha sofferto questa località per quanto riguarda l'alluvione e quindi il dissesto idrico del territorio Cantiano è stata esclusa dal piano idrogeologico della regione Marche il sindaco di Cantiano si dice sconcertato dalla decisione della regione non si riesce a capire il perché dopo quanto ha subito una grande valanga d'acqua che è precipitata che ha invaso veramente tutta la città il centro storico gli scantinati le case ha procurato tantissimi tantissimi dandi non si capisce perché Cantiano rimanga completamente fuori dalla programmazione regionale degli interventi ordinari di mitigazione del rischio idrogeologico ed idraulico con stanziamento di risorse e quindi in questo caso si può dire per un'antinomia Cantiano rimane all'asciutto ma in realtà è piove sul bagnato vediamo anche la pagina di Senigallia Summer e Caterraduno stessa fine attenzione di non fare la stessa fine del Caterraduno il Summer Jambori perché il Summer Jambori trasloca si fa un'edizione invernale in quel di Parma Jambori versione invernale a Parma e Rebus Fondi l'altolà dei Democrat evitiamo lo stesso errore il PD in questo caso battecca l'amministrazione comunale e la invita a non commettere con il Summer Jambori lo stesso errore fatto con il Caterraduno che è stato trasferito a Pesaro e c'è preoccupazione per questo in città per la trasferta invernale a Parma del Festival anche se dobbiamo dire rassicurazioni sono arrivate proprio dalla cittadina emiliana per quanto riguarda la paternità e la localizzazione di questa manifestazione e poi vediamo su questa seconda pagina per quanto riguarda il territorio senigallese lavori sul nevola tensione al cantiere accertamenti dei carabinieri forestali che cosa accade accade che per quanto riguarda i lavori di mitigazione del rischio idraulico che in questo caso vengono fatti nelle senigallese si abbattono gli alberi e i residenti di tre castelli non ci stanno hanno chiamato le guardie forestali hanno cercato di arrestare gli operai nella loro opera di taglio non ci sono riusciti gli operai hanno continuato ma i residenti hanno protestato al vaglio ora tutte le autorizzazioni se veramente è tutto regolare oppure c'è qualche inghippo in modo da arrestare questo impatto ambientale vediamo anche qualche notizia di Pesaro sul Corriere Adriatico vediamo che si parla ancora molto di antenne di antenne che guastano il paesaggio e che anche queste costituiscono un brutto impatto ambientale c'è veramente un incubo c'è una generale sollevazione dei pesaresi intorno alle maxi antenne in vari quartieri sono sorte si può dire come funghi in questi ultimi tempi e veramente c'è preoccupazione vediamo il titolo incubo maxi antenne quartieri in pressing diteci qual è il piano ci vuole un piano generale per sapere quante ne nasceranno dove nasceranno ce ne saranno ancora si ferma qui il piano insomma la gente vuole avere notizie sicure i residenti chiedono al comune di sapere non i presidenti ma anche i presidenti dei quartieri ovviamente chiedono al comune di sapere dove sono previste le future installazioni ebbene in base alla rivolta di Fiorenzuola che non è l'unica come dicevo che si è sollevata dal territorio è stata preceduta poi dalle proteste di Novilara Montegranaro e Soria e in questo o in questa tabella vediamo un po' la mappa di tutto il territorio e di come sono sorte le antenne 56 i siti già installati sono necessari perché se devono funzionare i cellulari le antenne ci vogliono 46 quelli futuri tra individuati e da cercare 102 il totale degli impianti l'antenna 5G di Fiorenzuola è alta 30 metri e reggerà fino a 6 antenne con 3 parabole 7 ripetitori in concessione per 9 anni poi abbiamo altri produttori Wind 3 ha 27 siti Linwit 5 ha fatto domanda per 5 Iliad ha all'attivo 36 siti radiobase 18 già realizzati altri 18 hanno bisogno di nuove localizzazioni poi abbiamo Fastweb un impianto chiede 7 nuovi localizzazioni Linkmem 5 impianti già realizzati ne chiede altri 3 Viasat chiede un nuovo sito tutto questo per quanto riguarda il 5G e vediamo che cosa sta accadendo a Michael Alessandrini l'omicida l'omicida che ha ucciso il suo amico durante una cena tempo fa a Pesaro diciamo tempo fa ma la cosa è molto recente per Alessandrini un esame fiume per quanto riguarda la sua capacità di intendere e di volere ma ancora non si è parlato di omicidio sono i psichiatri che cercano di sondare la mente di questo giovane si tratta di aver cominciato a parlare della sua infanzia dei rapporti familiari ancora non si è toccato il momento culminante dell'omicidio ma ci vorrà ancora un po' di tempo per avere delle risposte e soprattutto per decidere se lui era in grado in quel momento quando ha commesso l'omicidio veramente se era in sé se capiva quello che stava facendo la perizia poi avrà altri appuntamenti e incontri e dovrà essere chiusa entro il 30 giugno prossimo la tappa successiva è prevista a Pesaro il 14 luglio alle 10 davanti al GIP per l'esito i consulenti devono valutare la capacità di intendere di volere al momento dell'omicidio vediamo ancora un articolo per quanto riguarda la sanità si parla di screening alla Mamella e in questo articolo solo la metà delle donne aderisce allo screening l'appello è del commissario dell'azienda sanitaria territoriale Gentili per la prevenzione del tumore mammario l'invito per la diagnosi precoce è un invito importante e riguarda tutte le donne di età compresa tra i 45 e i 49 anni in provincia ha già raggiunto quasi 2500 donne che potranno in seguito all'estensione dell'indagine effettuare la mammografia a partire dal compimento dei 45 anni di età e vediamo anche la pagina di Urbino dove ci si pone in coda alla cerimonia di incoronazione del re d'Inghilterra ricordando quando Carlo venne appunto nella città ducale lo ricevettero anche Rovena Coles all'epoca insegnante madrelingua che fece l'interprete appunto all'ora principe di Galles ma lo ricorda anche Alfonso Don Antonio era lo chef che preparò il menù appunto per il pranzo che emozioni 30 anni dopo hanno dichiarato Alfonso Don Antonio e Rovena Coles la memoria di un incontro principesco diamo un'occhiata anche al resto del Carlino abbiamo visto la prima pagina dedicata purtroppo al dramma che si è verificato nella giornata di ieri vediamo anche a fondo pagina il ricordo degli amici Santorelli l'amico d'infanzia lo conosco da 30 anni sono devastato si tratta appunto della morte di Tommaso della Dora di cui abbiamo già parlato dopo Gabice tocca Fano Sud Confesercenti assalta gli hotel è stato presentato ieri negli uffici di Viale Cesare Battisti dove c'è un centro di informazioni turistico il nuovo gruppo di Assotel fondato dalla Confesercenti un gruppo di 15 albergatori che si pone appunto in sintonia con quello già istituito a Gabice per così condurre una strategia lungo la costa da Gabice a Marotta per incentivare ovviamente la promozione turistica della nostra riviera ma anche per rafforzare il ruolo sindacale di questa categoria sono ben 15 strutture alberghiere entrate a far parte dell'associazione il direttore provinciale Licurgo il direttore provinciale dice stiamo costruendo una dorsale del turismo e si farà così anche nell'entroterra nessuna località verrà dimenticata ha detto Licurgo ma vediamo qui gli autori di questa conferenza stampa a parte gli operatori a parte gli albergatori passiamo ad altre notizie vediamo un articolo che riguarda gli asili nido meno nascite ma più iscritti per gli asili nido a Gimarra arriva una nuova sezione l'accoglienza totale passa da 263 a 278 posti mascarin segnali di apprezzamento alle famiglie siamo in conclusione e non ci rimane altro che parlarvi dell'articolo della pagina di Urbino l'Ateneo lancia la crociata contro il fumo bionde vietate anche negli spazi esterni agli accenti la prorettrice Viganò iniziative di supporto psicologico per chi vuole smettere e questa era l'ultima notizia vi chiedo scusa per il momento di interruzione e vi auguro una buona giornata con l'appuntamento a lunedì prossimo alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci a risentirci grazie per l'ascolto grazie per l'ascolto